E ragazzi prima di iniziare vi volevo però invitare già a lasciare un bel mi piace che dobbiamo superare i 10.000 Perché infatti al 102% non credo che pack opening simili a questo sul mio canale si vedranno ancora Quindi carpiamo il DM, sfruttiamo l'occasione e lasciate un bel mi piace e detto questo godetevi il video Ragazzi non ne rimangono tanti anzi mancano solo 46 minuti e due pacchetti da 100.000 Io ci credo ancora quindi chiudiamo gli occhi e rialziamoli adesso e troviamo Pirlo Ribery! Incredibile! Ribery come stiamo andando oggi? 255 ero convinto molto di più Però noi lo teniamo e lo andremo a rivendere almeno tra un bel po' così da poter si guadagnare qualcosa Comunque che dirà? Magari anche un blu? No quello no ma va benissimo così Quindi detto questo andiamo a scartare tutti gli oggetti rimasti e andiamo ad aprire un altro pacchetto da 100.000 credit Dai un bel toti! Dai un bel toti! E adesso! Pichè! Attenzione! Ma magari tutto a destra! Oh Cristo! Due in forma! Va bene! Costano 10.000 ecco perché 10.000 all'uno costano quindi alla fine ci fate 20.000 a questo pacchetto Ne ho spesi 100 quindi sono in perda Dai! Quest'anno mi saranno anche i bonus ho appena finito la roccia ma mi senti fortunato Dai! 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 Mi lo stassi! Mi vado già capisci! Questa è troppo! Troviamo Tony! Troviamo Tony! Tony più stoti! Sì! Finalmente! Me lo sentivo! Oh non c'è cara! Me lo sentivo! Ce l'abbiamo fatta! Sì! 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 Tony più stoti! Sì! Migliori! Ma il nostro milione ce lo siamo portati a casa! Caspita! Però speravo in 2 milioni! Va bene! Tony Cruz! Oddio! Sergio Ramos! Sergio Ramos! Sergio Ramos! Ti è entrato un altro da DC! Quando non mi stai risultando! Ragazzi! Io stavo studiando! Io stavo studiando! Sergio Ramos! Ti siamo a 2! Voglio un attacchente! Dai 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 dai! Sergio! Mi è uscito! Mi è uscito! E io credo che io mi stavo per abbandonare! Ma ragazzi! Sì! 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 Sì!